Torniamo con la nostra solita dose di odio mensile. Benvenuti su Spreferiti di Gio, quel format nel quale mi conoscete meglio attraverso le cose che odio. In questo caso, dato che il tema di questo mese sono le donne, ho scelto questo tema perché l'otto sarà la festa della donna ed è un argomento di cui mi interessa molto parlare in ogni sfaccettatura, ho deciso oggi di portarvi le cose che odio sentirmi dire in quanto donna, in quanto donna e in quanto individuo anche. Io sono una persona che per difetto personale pensa molto a quello che dicono gli altri e si fa influenzare spesso da quello che dicono gli altri. Per quanto di contro, sono i gemelli, perdonatemi sono un po' piccolare, sono anche una persona molto determinata che quando è veramente determinata su un obiettivo lascia perdere tutto quello che le viene detto e testardamente anche bagliando. Comunque va contro il muro, ripetutamente come un adino. Prima cosa che odio profondamente sentirmi dire è il tuo non è un vero lavoro. Io insegno danza, io faccio anche la scrittrice. Ho scelto, forse per mia sfortuna o fortuna, non lo so ancora, me lo direte voi, dei lavori che comunemente sono conferiti a persone che lo fanno come secondo lavoro, che hanno di base un lavoro stabile, secondariamente nel tempo libero si dedicano a insegnare danza, scrivere, insomma così come hobby. Io sono una persona molto fortunata, sono riuscita, cosa che tutti sperano di fare nella vita, a trasformare le mie passioni, i miei sogni nel cassetto in vere e proprie realtà professionali. Io riesco a sopravvivere con il mio lavoro, in tempi sani ovviamente, lasciamo perdere quello che è stato quest'anno, quindi tu non hai il diritto di definire il mio lavoro come un non lavoro, perché è un lavoro a tutti gli effetti, anzi è un lavoro talmente particolare che in pochi riescono a farlo, quindi proud of me e stai zitto, fondamentalmente. Un'altra cosa che odio sentirmi dire, anzi più cose, sono tutte quelle frasi che hanno a che fare con il mio fisico, sia in bene che in male, ora vi spiego perché. Chiaramente è una cosa che odio sentirmi dire, sei grassa, sei ingrassata, non hai il fisico per fare il lavoro che fai, sei brutta, insomma tutte queste frasi qua ovvio non le sopporto, ma più particolare non sopporto che mi si giudichi attraverso il fisico, io preferisco di gran lunga che mi si facciano complimenti sulle mie aspirazioni, sugli obiettivi raggiunti, sul mio carattere o cose del genere, nel bene e nel male, piuttosto che sul fisico, perché definire una donna in particolare dal suo fisico è una cosa estremamente denigrante, dire frasi del tipo che brava sei dimagrita, che bello sei dimagrita, ti vedo dimagrita, come stai bene, come sei muscolosa, sono frasi che comunque influenzano la persona positivamente e soprattutto se una persona è affetta o è stata affetta da disturbi alimentari, possono portare all'ennesimo disturbo alimentare, quindi pensa prima di parlare, quando vuoi apprezzare una persona piuttosto di, non lo so, insomma cose che non riguardano la corporatura, prima di tutto, nello specifico cerca di apprezzare a parole, chiaramente poi dentro di te puoi anche apprezzare il fisico e quello che è, ma prima di giudicare una persona conoscila, se questa persona non la conosci, preferisci sempre complimentarti con questa persona per aspetti che non riguardano il fisico, perché non conoscendo la storia di quella persona, la persona come me può essere infastidita dalla cosa. Un'altra frase che mi sono sentita dire purtroppo ingiustamente è, pensi solo a te stessa, sei un egoista, cosa assolutamente falsa, io forse per lo stile di vita che ho scelto sono un lupo solitario, ma non per scelta, sono un lupo solitario per conseguenza rispetto ai ritmi che ha la mia vita, poi ora mi sono abituata comunque a convivere con me stessa, a vivere la mia socialità con me stessa e insomma io sono la mia migliore amica, che non è una cosa necessariamente negativa, certo a volte senti un po' la solitudine malinconica del non avere l'amica, la migliore amica o cose del genere, però tutto sommato si sopravvive. Questo quando l'unica tua chance di avere delle amiche o comunque un ragazzo insomma della socialità umana, ecco, è pensi solo a te stessa, io non penso solo a me stessa, in questo momento penso solo a me stessa perché non ho altre persone di cui prendermi cura, se non la mia famiglia e alla mia famiglia io penso nella misura nel quale mi viene richiesto di pensare alla mia famiglia, sono semplicemente una persona molto pratica, molto pratica che è consapevole anche del suo limite sentimentale, limite che mi porta ad essere una persona molto sentimentale, molto sensibile, molto emotiva, di conseguenza quando io mi affeziono a una persona mi prendo estremamente cura di lei. Qual è il problema? Che se io mi prendo troppo cura di una persona nel momento in cui smetto di farlo perché ho delle esigenze più importanti o altre priorità, mi viene detto pensi solo a te stessa. Ripeto, mai cosa fu più falsa, se mi conoscete bene sapete che io sono una persona estremamente altruista, disposta all'impossibile per una persona a cui vuole bene. Un'altra frase che odio perché è una cosa che odio nelle altre persone è sei incoerente, sei incoerente dove? Perché io sono estremamente coerente con me stessa, con quello che dico. Certo, è libero, sono libera di cambiare opinione, se io dico una cosa, poi tu mi dici una cosa che magari mi porta a pensare che tu abbia più ragione di me, non ho problemi a dire sono d'accordo con te, se questa è incoerenza allora sì sono incoerente, ma fondamentalmente da definizione questa è una incoerenza. L'incoerenza è quando tu dici faccio una cosa, in realtà poi ne fai un'altra e magari poi dici no, io ero convinta di fare quest'altra cosa. Cosa che io non faccio, anzi io il contrario, come ho detto prima, essendo molto testarda e determinata, se mi impunto di fare una cosa non c'è santo che tenga, io farò quella cosa anche nell'errore. L'incoerenza non fa parte della mia persona, quindi quando me lo si dice è una cosa che non sopporto. Un'altra cosa, sempre che riguarda l'aspetto fisico, è un po' un mio tasso dolente l'aspetto fisico, ma ve ne sarete accorti, che mi si dice è ma come sei vestita o ma come sei truccata. Sono sempre stata una persona che ha un proprio stile, non ho mai seguito le mode, sia per un fattore economico perché io non sopporto spendere soldi per vestiti quando ho l'armadio pieno, sia per un fattore estetico mio, nel senso piuttosto io preferisco indossare sempre le stesse cose in modi diversi, in base al mood della giornata, piuttosto che seguire la moda. Questo mi porta magari, mentre le altre ragazze magari si vestono attillate con i tacchi, via dicendo, io sono capace di uscire la sera in jeans, magliette e converse. Qual è il problema? Ma se io mi sento a mio agio con questo tipo di abbigliamento, perché no? Soprattutto nel caso in cui l'abbigliamento non è conforme al mio fisico, se io mi ci sento bene, perché non devo vestirmi così? La stessa cosa vale per il trucco, a me piace abbinare il trucco a quello che indosso, poi magari sono la prima che si fa un selfie e mesi dopo rivede quel selfie e dice ma come cavolo ero vestita, ma come cavolo ero truccata, ma se in quel momento io mi sento bene truccata e vestita in un certo modo, non vedo perché tu debba farmi notare che non ti piace questa cosa. Non fa piacere, soprattutto è maleducazione. Sono perfettamente d'accordo con questa cosa che non puoi giudicare una persona in qualcosa che riguarda l'aspetto se non è una cosa che la persona stessa può risolvere nel giro di 5 minuti. Torniamo a un discorso che ho fatto due giorni fa. Fai danza, devi avere un fisico molto elastico e muscoloso. Sempre un altro aspetto fisico che mi viene detto molto spesso, soprattutto quando conosco delle persone dell'altro sesso con cui magari metterò una frequentazione o via dicendo, la prima cosa che mi viene detta molto spesso magari vedendo una foto è come sei muscolosa, come sei elastica, si vede che fai danza, la danza ti avrà reso così. E anche se fosse o se non fosse, se io non fossi elastica anche se faccio danza da 25 anni e non fossi muscolosa perché magari pur facendo danza sono in un periodo nel quale mangio come non so che cose quindi non sono tonica, oppure è un periodo nel quale, guarda caso, sono a casa, a lavorare da casa e quindi non posso muovermi come facevo prima e questo mi ha portato ad avere un fisico meno tonico se anche fosse, la tua opinione dove devo mettermela? Questo prendetelo con le pinze, soprattutto se siete minorenni, se siete minorenni balzate direttamente al prossimo punto. Chissà come spazi bene, oppure altri complimenti spinti. Il fatto di avere un fisico elastico, cosa che ho fortunatamente non abbastanza, ma questo è il mio limite non è necessariamente equivalente al fatto che io sia una persona che in determinate situazioni fa delle acrobazie incredibili. Ora non scendo nello specifico perché non mi sembra la sede adatta ma c'è un tempo e un luogo per ogni cosa e dico questo se io sono nel mood nel quale mi fa piacere ricevere dei commenti un po' più spinti dei complimenti un po' più spinti, allora puoi permetterti di farlo se noi stiamo parlando in maniera molto colloquiale, normale, informale non è necessario che tu faccia determinati complimenti inopportuni dovresti curarti di più, zero shame oggi mi sono truccata, ma non so se si mette bene a fuoco io soffro di dermatillomania è un disturbo ossessivo compulsivo nel quale io mi schiaccio i brufoli non penso di essere l'unica al mondo rimarrò qua vicina perché così potete veramente notare questa cosa non sono sempre portata a curare il mio aspetto io mi trucco ultimamente solo per fare i video con voi quindi è una mia scelta il fatto di non truccarmi il fatto di tenere i capelli legati anziché sciolti il fatto di vestirmi sciatta è una mia scelta voi non avete il diritto di dire che sono poco curata che vi faccio schifo o cose del genere perché penso che anche voi abbiate le vostre giornate in cui non ve ne frega assolutamente nulla di curarvi di voi stessi una frase che mi viene detta da sempre da sempre ma tu leggi sempre detto in maniera dispregiativa il fatto che io abbia una passione per i libri e la lettura prima di tutto al momento è una cosa estremamente rara se una volta avevamo tutti un libro in mano quasi tutti adesso avere un libro in mano è sintomo di se hai una secchiona, se hai sempre sui libri mi piace leggere è una cosa che trovo sia anche un pregio nei confronti di una persona perché denota il fatto che la persona culturalmente si continua ad arricchire se io ho sempre un libro in mano se io leggo 65 libri in un anno cosa che ho fatto l'anno scorso e me la tiro magari anche per questo perché tu devi giudicare il fatto che io continui a leggere allora io potrei dire perché tu te ne stai sempre attaccato al telefono perché tu ti guardi le partite di calcio perché tu sei fissato con i videogiochi ognuno ha la sua passione se io sto con i libri non vuol dire che io sia una secchiona ma vuol dire solo che tu hai trovato una persona splendidamente intelligente siamo quasi alla fine comunque la prossima per spezzare un pochino questo odio non è del vero odio però è una frase che fondamentalmente un po' mi infastidisce non penso solo a me so che tante di voi sono del mio stesso club una frase che mi dice sempre mia nonna che poverina è arrivata in un'età in cui si scorda le cose molto facilmente è ma allora fidanzato? no è una cosa che mi infastidisce un po' perché mia nonna ovviamente essendo da altri tempi è ancora dell'idea che dopo i 20 anni tu ti devi fidanzare, sposare e fare figli io sono arrivata a 27 anni sono ancora single non ho un impegno relazionale non ho nemmeno per la testa di sposarmi di fare figli di già vivere da sola comunque per me è un grandissimo traguardo lei invece ogni volta me lo chiede perché per la mentalità che ha lei che è da altri tempi è dovuto cioè lei alla mia età aveva già un figlio per dire tanto per dirne una e niente niente questa faceva ridere comunque io so che tanti di voi hanno le nonne che spingono per sistemarvi sono con voi sei paranoica? sì sono paranoica è un fattore un difetto mio personale penso che ogni persona nel mondo abbia dei difetti uno dei miei difetti è che sono paranoica ma se sono paranoica non è che forse tu mi hai dato modo di esserlo perché in realtà io ho scoperto di essere anche una persona che nel momento in cui è tranquilla con un'altra persona e l'altra persona è perfettamente limpida e sincera nei miei confronti non sento di essere paranoica non ho necessità di essere paranoica quindi è un mio difetto che sfocia solo nel caso tu mi renda così questo deriva dal fatto che io penso agli altri quello che vi ho detto prima che mi faccia influenzare dagli altri ma quando io sono paranoica l'ho già detto in altri casi fatti due domande e prova a pensare più che altro cosa mi ha portato ad essere paranoica in quel caso se ne parla si dialoga se poi effettivamente io sono paranoica per nulla ammetterò il mio errore e cercherò di migliorarmi cioè sono cose che si fanno in due non è che divento paranoica così a caso ultimo punto non ce la farei mai oppure trovo un'alternativa perché non ce la farei mai è una frase che ha un valore per me un po' altallenante nel senso che ci sono delle volte che io ringrazio le persone che mi dicono non ce la farei mai perché mi spronano a fare meglio un po' come le persone che insistono col farti vedere e dire qualcosa e ti passa la voglia di farla al contrario se uno ti dice non ce la farei mai per il carattere che ho io sono portata a mettercela tutta quindi io in parte ringrazio queste persone d'altra parte però c'è una piccolissima parte di me quella parte odiosa che io vorrei eliminare che mi dice forse hanno ragione perché tu dovresti dire una cosa del genere non dovrei essere io a giudicare se posso farcela fare una cosa oppure no già sono io una persona che nel momento in cui le cose diventano difficili è portata a mollare se tu mi dici non ce la farei mai io mollerò e magari mi precluderò a delle possibilità bellissime per la mia vita quindi muto in ogni caso concludo con una citazione dal film di Bambi se non hai nulla di carino da dire è meglio se non dici nulla spero che questo video vi sia piaciuto lasciatemi un commentino qua sotto e spolliciate se è così se pensate che queste cose possano interessare i vostri amici parenti e conoscenti ma soprattutto se condividete con me queste frasi che odiate in quanto donne in quanto individui in quanto essere umani condividete questo video su tutti i vostri social e se volete supportarmi ulteriormente cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video noi ci vediamo il 6 di marzo con il consueto appuntamento col tag mensile invece ci vediamo con il prossimo appuntamento di Spreferiti di Gio il 26 di marzo un bacione e ci vediamo alla prossima A presto